Buongiorno telespettatori di Telequattro, benvenuti al quarto d'ora che anticipa il telegiornale delle 13 e 20, quest'oggi siamo in compagnia dell'assessore comunale all'educazione Maurizio De Blasio che saluto e ringrazio per essere venuto nei nostri studi. Assessore partiamo dai murales che sono stati presentati ieri e che hanno un significato molto particolare anche. Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Questi due murales che sono stati realizzati a Giarrizzole si inseriscono in un progetto molto importante che si pone l'obiettivo di lavorare sulla sicurezza stradale, quindi ridurre l'incidentalità stradale legata e causata dall'uso e abuso di alcol e droghe. Ha visto, e questo è l'importante, ha visto uniti tutti gli enti coinvolti a livello nazionale che è il principale finanziatore, gli enti locali e negli enti locali c'era al comune, c'era la SUGI, la microarea, ATER, proprio perché l'obiettivo che ci si pone appunto è di estrema importanza e di rivolto a giovani e giovanissimi. Perché due murales? Per salvare una vita basta poco, basta qualche secondo che distolga da una situazione, qualche gesto, qualche frase che distoglie da un comportamento pericoloso, ma questo poco in realtà è la classica punta di un iceberg. Dietro questo poco ci deve essere il lavoro di tutti. Ecco perché si parte e questo progetto prevedeva il controllo, la vigilanza sulle strade, così come prevede l'espressione artistica, prevedeva l'intervento dell'ambiente e della sanità, quindi della SUGI e della prefettura che coordinava determinate attività. Ecco, il lavoro di tutti, anzi solo il lavoro di tutti può portare a un risultato. Poi accanto a questo occorre dire che c'è stata con questi due murales e quindi complimenti vanno ai due artisti che l'hanno realizzato, valorizza anche il rione, valorizza l'ambiente, quindi è un insieme di cose. Ecco io ci tengo molto a questo progetto che tra l'altro mi ha visto prima partecipare come assessore alla sicurezza e adesso come assessore all'educazione perché, come raccontavo adesso, mi preme che ci sia grande collaborazione tra istituzioni. L'obiettivo era, come dicevamo, è di grande importanza perché è appunto rivolto a giovani e giovanissimi e ha dato la possibilità poi anche di valorizzare un rione e dare la possibilità, ha dato la possibilità anche ad artisti di esprimersi. Ecco questo tutto l'insieme. È la prima volta, se non erro, assessore, che i murales, che tra l'altro sono stati appunto realizzati da qualche anno in varie parti della città, è la prima volta, ma mi corregga se sbaglio, che appunto il murale va a sottolineare una problematica così seria, nel senso, non che le altre non lo fossero, però le altre avevano un carattere prevalentemente di riflessione sociale. Questa invece invita proprio anche ad una serie di comportamenti per evitare fatti drammatici, quindi c'è una magari minima, ma c'è una sottile differenza. Sì, sì, no, comprendo il senso della domanda. Potremmo sintetizzare che è quasi un messaggio indiretto, questo forse lo rende diverso dagli altri. Diciamo che l'opera, anche grazie alla capacità degli artisti, pone davanti, dà un certo tipo di messaggio, rappresenta una realtà distorta, che è quella alterata, che è quella a cui sono soggetti le persone che abusano e usano, abusano di alcol e droghe. E quindi lì il messaggio è detto guarda cosa succede, ma è indiretto nel senso che è indirizzato alla guida consapevole e sicura, quindi si tende anche a far vedere, a rappresentare l'arte come modello di promozione, e cioè dar spazio ai giovani e distoglierli da comportamenti poco virtuosi. Quindi c'è più di un messaggio e in questo forse è vero che in questa complessità, forse non so se è la prima, ma sicuramente non è così frequente, perché ciò che stava dietro era molto complesso. Allora parliamo di scuola, anche perché giustamente poi questo tipo di messaggi passa anche attraverso l'assessorato all'educazione, oltre che all'assessorato alla sicurezza, perché questo tipo di messaggi deve coinvolgere soprattutto i più giovani ed abituarli in un certo modo. È come se forse quasi un concentrato di educazione civica, materia che non si capisce mai se viene reintrodotto, in genere è quella che viene sacrificata alle assemblee di istituto, alle assemblee di classe, ma questo è un altro discorso. Si parte credo fra una decina di giorni, se non mi sbaglio, più o meno 13. Non dimentichiamoci che in questo periodo comunque credo quelli delle superiori sono impegnati con quelli che una volta si chiamavano esami a settembre, eccetera, perché sono già incominciati. Com'è la situazione? Facciamo subito la domanda, quali sono le problematiche maggiori che l'assessorato sta affrontando? Queste settimane sono state settimane di lavoro e di preparazione all'anno scolastico. Noi come amministrazione abbiamo un ampio e ambizioso piano di ristrutturazione degli immobili che sono adibiti a scuole e questo evidentemente ha portato anche delle criticità che sono quelle su cui stiamo lavorando per risolvere. L'obiettivo è di dare spazi sicuri, sicurezza alle famiglie, spazi dove bambini e ragazzi possono studiare nel modo migliore. Certo non sono lavori né brevi né semplici, ma su questo c'è il massimo impegno. Abbiamo concluso adesso dei concorsi che hanno lavorato invece sul personale, perché occorre dare, queste erano delle graduatorie per il personale supplente, per garantire la presenza del personale educativo nelle strutture quando serve. Quindi è un lavoro molto ampio. Per tornare al discorso di prima, la scuola certamente ha un ruolo fondamentale sull'educazione dei giovani, dei ragazzi, soprattutto su certi temi, la cronaca ci racconta episodi di ogni tipo. La scuola ha rivesto un ruolo essenziale, già con l'istruzione, già con la conoscenza, con la promozione della conoscenza, su certi temi occorre evidentemente approfondire. Si parlava di educazione fisica, non è in questo caso, ma i docenti lo sanno benissimo, passare solo informazioni e solo istruzioni su quello che sono le strutture, le istituzioni, le leggi, occorre creare consapevolezza, occorre creare cultura e anche questo non è un passaggio breve, anche questo va fatto a medio e lungo termine, ma l'obiettivo è fare in modo che certi episodi che sono della cronaca di questi giorni non avvengano più. Il grosso, la grossa sfida se vogliamo anche, l'assessore è quella, però anche qui bisogna fare un po' di attenzione perché riguarda più l'assessorato ai lavori pubblici che non quello all'educazione ed è quella della risistemazione temporanea degli studenti di alcune scuole quando le scuole vengono risistemate, quindi bisogna fare anche una sorta di reminder che mi faccio da solo, cioè docenti siamo a posto, con il personale siamo a posto, essere a posto non vuol dire non lavorare più sull'ambito del personale, anzi è un ambito a cui io credo tantissimo perché ritengo che in ogni organizzazione le persone che lavorano siano la prima cosa, poi vengono le strutture, le attrezzature e poi arriva il metodo che ci si dà, gli obiettivi che ci si pone, ma prima di tutto arrivano le persone, quindi da me personalmente, da questa amministrazione c'è grande attenzione verso il personale, dopodiché arrivano le strutture che sono estremamente importanti perché è il luogo dove le persone lavorano e mettono in atto ciò che è la loro professione e qui, e lo dicevo prima, noi abbiamo un ampio e ambizioso piano di ristrutturazione e adeguamento degli immobili e è chiaro che un piano di questo tipo porta dietro delle criticità e anche delle difficoltà che noi cerchiamo di risolvere. Una delle soluzioni che si adotta quando si ristruttura un immobile è appunto quello di spostare l'istituto in sedi provvisorie, non è detto così, è molto semplice, in realtà non lo è, richiede ulteriori lavori, l'importante è avere le idee chiare e lavorare con grande responsabilità, sapendo che poi il pubblico è fatto di bambini e ragazzi, questo credo sia fondamentale e di famiglie. Abbiamo ancora tempo per una domanda, quali sono le, perché anche qui bisogna fare un po' di chiarezza, il comune su quali, anche il termine, su quali scuole ha giurisdizione, nel senso il comune si occupa delle medie, delle elementari, a scendere. Allora, come giurisdizione, diciamo, completa il comune si occupa di nidi, scuole dell'infanzia comunali, perché ci sono anche quelle statali, e ricreatori. Queste sono le strutture che dipendono direttamente dal comune. Poi il comune ha responsabilità sugli immobili delle scuole primarie, delle scuole medie e alcune scuole superiori. E quindi ha anche questo compito. Ecco perché dicevo che è un lavoro molto ampio e un piano ambizioso, perché è un lavoro molto complesso, perché lavorare su immobili che hanno anche una certa età, per garantire quella capillarità che noi garantiamo, non è semplice, ma questo è il lavoro che stiamo facendo adesso. E c'è un ulteriore dato, in genere la posizione, diciamo così, di una scuola all'interno di un rione, all'interno di un quartiere, all'interno di una zona, non è cosa di poco conto, perché significa appunto un certo tipo di traffico, quantomeno in alcune ore, significa anche gravitare attorno a situazioni di negozi, bar, insomma. Certo. C'è tutto, non sembra, ma la scuola è centralissima anche da questo punto di vista. Già garantire gli spazi per poter operare in un ambito scolastico, già di per sé è un impegno, ma quando si opera in una distrutturazione e in uno spostamento, occorre tener conto di tutto, dal traffico che si genera in una particolare zona, fino allo spostamento delle persone che invece sono abituate ad andare in un certo luogo e devono andare da un'altra parte, le persone che invece si trovano a dover affrontare un'area dove arrivano più persone, quindi i trasporti, il trasporto pubblico, quindi sono più fronti su cui occorre operare. Assessore, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, noi ci vediamo adesso dopo la pubblicità, siamo pronti per il telegiornale delle 13.20. Telefettatori di Telequattro, buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Partiamo con la cronaca. A seguito dei controlli straordinari pianificati in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblici tenutisi in prefettura, il questore ha disposto la chiusura, per motivi di ordine e sicurezza per 20 giorni, di un pubblico esercizio in via Conti con conseguente sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Il provvedimento è stato notificato lo scorso 26 agosto. Dalle ispezioni è emerso che il locale da tempo è divenuto punto di incontro di persone che fanno uso smodato di bevande alcoliche, diventando fonte di disturbo per i residenti, nonché motivo di intervento da parte delle forze dell'Ordine a causa delle frequenti liti tra avventori e le immagini che stiamo vedendo si riferiscono a tutto ciò e sono state inviate dai residenti della zona. Significativo appunto l'episodio della notte del 21 agosto, quando dopo una violenta lite fra due clienti in evidente stato di ebrezza, ai quali era stato consentito di continuare a consumare alcolici nonostante le loro condizioni, sono intervenute numerose pattuglie di polizia e carabinieri che con fatica erano riusciti a riportare l'ordine, stante appunto la condizione psicofisica e la resistenza posta dai soggetti. Tutti i soggetti sono stati deferiti alla polizia alla procura della Repubblica per i reati di percorsi aggravate e tutti quanti sono stati sanzionati per manifesta ubriachezza. L'attività di controllo ha consentito di accertare irregolarità nella gestione del locale con un responsabile dell'esercizio non risultante agli atti amministrativi e che non sia reso disponibile a collaborare nel fornire le immagini del circuito di sorveglianza. Le verifiche sull'esercizio, il cui titolare è un cittadino di origine irachena di 26 anni, hanno evidenziato come lo stesso, specialmente nella fascia notturna, sia frequentato da persone dedicate all'uso sbodato di sostanze alcoliche che contribuiscono al proliferare di situazioni pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica. Privatizzazione dei porti, una strada percorribile, secondo il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, che ritiene sia un modo per mettere le infrastrutture strategiche del Paese a riparo dalle mire dei Paesi esteri. Meglio una concessione ai privati che il rischio di vedere la mano lunga dei Paesi stranieri impossessarsi di asset strategici nazionali. La pensa così il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga rispetto al tema della privatizzazione dei porti, attualmente argomento affrontato nelle sedi istituzionali romane, con la concausa della necessità di reperimento di fondi per affrontare la prossima manovra finanziaria. Fedriga in questo frangente ritiene sia una possibilità ma con le dovute cautele. Personalmente credo che la proprietà pubblica data in concessione al privato sia la soluzione migliore, perché ci tutela da rischi come quanto è successo nel Pireo, in Grecia, dove porti vengono comprati da Paesi come la Cina e diventano qualcosa di fatto che non risponde più all'interesse nazionale. Quindi sicuramente serve un protagonismo dei privati e su questo condivido le parole del Vicepremier Tajani, ma questo lo si può fare attraverso le concessioni in essere che tutelano appunto anche da rischi come quelle viste in Grecia. Rispetto alle peculiarità di Trieste e del suo porto invece è incentrato il commento della sottosegretaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Sandra Savino. Per quanto riguarda Trieste sicuramente deve essere un caso preso singolarmente, c'è il discorso del regime del punto franco, c'è la questione che riguarda gli accordi di pace e il Trattato di Parigi, quindi è una situazione diversa sicuramente dagli altri porti, quindi come tale va trattata in maniera completamente diversa, perciò credo che in questo momento l'argomento non debba toccare Trieste appunto che ha tutto un percorso a sé stante. In attesa del collegamento con la sala operativa della Polizia Locale che vedo, per cui cediamo la linea a chi ci sta aspettando a Palazzo San Sebastiano. Buongiorno. Sì, buongiorno Bosazzi, De Grassi. Buongiorno De Grassi. Cosa ci racconta di questa mattinata ancora piovosa? No, diciamo che fortunatamente la pioggia è diminuita come intensità, comunque avevamo ancora la coda degli interventi di ieri e l'elettro ieri, ancora qualche intervento per caduta di alberi, c'è stata una caduta di un ramo in Viale Campilisi, comunque sembra che dovremmo aver praticamente concluso la via dell'Avena Opicina che era stata chiusa per sicurezza a caso appunto un albero pericolante, è stata riaperta circa un'ora e mezza fa e dopo che i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la pianta pericolante. Per il resto comunque molte chiamate perché vi fa anche il tempo comunque piovoso, qualche incidente e fortunatamente niente di cruento. Devo segnalare ancora che ci sono dei divieti di sorsa sulla via Felice Venezia, ci potrebbero essere delle possibili chiusure per dei lavori che però visto il meteo non credo verranno eseguiti, comunque attenzione sulla via Felice Venezia Venezia ai divieti di sottotemporanei. Per il resto al momento non abbiamo particolari interventi in atto, in agenda niente neanche di particolare per quanto potrebbe andare a difluire sul traffico veicolare e anche sull'andamento delle città in generale, quindi vi restituirei la linea. Grazie, grazie Commissario Degrassi, buona giornata e buon lavoro. Il Ministro Piantedosi e il Capo della Polizia Pisani saranno presenti martedì mattina a Muggia per la cerimonia in ricordo di Eddie Walter Cosina, l'agente muggesano morto nella strage di Via D'Amelio a Palermo nel 1992. Vediamo il servizio. Il Cippo per ricordare la figura di Eddie Walter Cosina, l'agente di Polizia morto in servizio nella strage di Via D'Amelio a Palermo il 19 luglio del 1992, nella quale persero la vita il giudice Paolo Borsellino e Poliziotte Emanuela Loia, Agostino Catalano, Claudio Traina e Vincenzo Limuli è stato già posizionato a Muggia, città d'origine di Cosina, davanti alla biblioteca Edoardo Guglia. Martedì 5 settembre si svolgerà una cerimonia in loco con l'intitolazione dei Giardini Europa all'agente muggesano, nata in Australia da genitori emigrati dopo la guerra, alla quale parteciperanno oltre alle autorità locali anche il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il Capo della Polizia di Stato Vittorio Pisani. Alla famiglia di Cosina verrà consegnato il Leon d'Oro, la massima onorificenza del Comune di Muggia che il Consiglio Comunale all'unanimità ha deciso di consegnare in memoria dell'agente morto in Sicilia. Il Cippo è già stato posizionato e si dovranno attendere le 11.30 di martedì per venire svelata la targa. La presenza del Ministro e del Capo della Polizia simboleggiano la vicinanza dello Stato, ma anche un'occasione in più per rappresentare loro altre situazioni che il territorio vive quotidianamente, sotto i riflettori soprattutto l'emergenza dettata dalla rotta balcanica. Il Sindaco di Piazza in questo frangente approfitta dell'attenzione di cui sta godendo la città, ricordando la presenza delle autorità nei prossimi giorni e alcune inaugurazioni a venire. Arriva Piantedosi per Muggia, in quel momento c'è anche Visco per la Banca d'Italia, poi c'è una terza cosa che non mi ricordo, è tutto concomitante, cerco di andare dappertutto, macchina pronta fuori dal Teatro Verdi, ci sono anche inaugurazioni importanti, verrà inaugurato il 15 il negozio di Villini di fronte agli ex Nazareno Gabrielli, insomma mi piace che la città sta correndo. Ancora alberi e rami pericolanti in città in questa coda del maltempo che ha investito la nostra regione negli ultimi tre giorni e che domani dovrebbe lasciare spazio ad un miglioramento delle condizioni meteo. Proprio davanti alla casalmetta dei Carabinieri è caduto un ramo abbastanza consistente, ha invaso il massapiede, parzialmente la strada, insomma era urgente e mi sono dato da fare io, insomma. Pulito, tagliato, adesso il comune provvederà a portare via il verde che ho messo da parte e proprio là sopra c'è ancora un grosso ramo in alto, sempre lo stesso albero, è pericolante, è già staccato e là sotto tra poco passeranno i bambini che vanno a scuola. Questa è la segnalazione raccolta da Telequattro questa mattina nel corso di sveglia Trieste a Borgo San Sergio. Ecco, vedete qui il suo lavoro, insomma quello che è riuscito a fare per mettere in sicurezza tutti i rami che erano pericolanti o comunque spezzati e caduti sulla strada che è fra l'altro anche abbastanza trafficata, qui ci troviamo proprio vicino alla caserma dei Carabinieri di Borgo San Sergio, quindi qui ci sono tutti i rami che il Signore ha messo in sicurezza con il suo lavoro, insomma per dare una mano e poi c'è anche il ramo qui proprio sopra di noi, non so se adesso riusciamo a farvelo vedere, quello pericolante che il Signore segnalava come un possibile pericolo appunto anche per l'imminente riapertura dell'anno scolastico. Anche oggi in tutta la città sono proseguiti gli interventi di messa in sicurezza di giardini e strade, nonostante il maltempo non abbia dato tregua anche questa mattina con piogge e raffiche di bora che hanno notevolmente abbassato le temperature. Delimitato e messo in sicurezza anche l'albero sradicato in via Colauti, oggetto di un'altra segnalazione. 56 operatori della Polizia Ferroviaria coadiuvati dalle unità cinofile della Guardia di Finanza sono stati impegnati ieri sull'intero territorio regionale nella decima giornata di controlli straordinari del 2023 denominata Stazioni Sicure. 20 gli scali ferroviari regionali controllati dagli operatori della Polfer nell'arco delle 24 ore, 731 le persone sottoposte a controllo. Le operazioni sono state rese difficoltose dal pesante maltempo che si è abbattuto in regione, soprattutto su Trieste. La stazione centrale di Trieste è stata interessata da uno straordinario flusso di passeggeri dovuto agli arrivi alle partenze contemporanee di turisti che dovevano imbancarsi sulle navi da crociera traccate in porto o dalle stesse erano sbarcati. Il sopraggiungere della tempesta ha causato un improvviso sovraffollamento dei locali della stazione bloccando al suo interno numerosi turisti. L'intensa pioggia ha inoltre provocato l'allagamento dell'atrio centrale della stazione di diverse attività e del sottopassaggio pedonale mandando inoltre in tilt gli impianti semaforici e trasformando in torrenti le vie adiacenti. Il personale della Polizia Ferroviaria impiegato nei servizi relativi all'operazione Stazioni Sicure si è prodigato per dare assistenza ai numerosi utenti della stazione costretti ad attendere la fine del Fortunale. Adesso andiamo per chiudere alla pagina del meteo. Vediamo intanto la situazione generale dove un minimo di bassa pressione passerà sull'alto adriatico fino a questa sera. In seguito prevarranno correnti occidentali in quota dal sud ovest e piuttosto umidi negli stati medio-bassi. Per domani si prevede cielo da poco nuvoloso a variabile su pianura e costa. Sulla zona montana cielo variabile e nel pomeriggio sarà possibile qualche locale pioggia o rovescio. Tra la tarda serata e le prime ore della notte di venerdì sarà possibile qualche temporale tra pianura e costa. Ci vediamo alle 18 con Trieste in diretta e alle 19.30 con il telegiornale. A più tardi, buon pomeriggio. Grazie. 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 Grazie a tutti.